Benvenuti all'Angolo di Pagine d'Autore, una rubrica per entrare nel mondo dei libri. Scuola di Santi di Alessandro Galano. Tu le dicevi le preghiere prima di andare a dormire? Anche io. Forse è questo che manca. No, non dico tornare a pregare, ma un Dio. Un Dio prima di andare a letto, uno che ti chiuda gli occhi, le dita giganti sulle palpebre minuscole. Era così che lo immaginavo da bambino. All'epoca era ovunque. Mio nono mi accompagnava a scuola ogni mattina. Facevamo sempre la stessa strada. Mi piaceva contare i passi dal portone di casa fino all'ingresso della scuola. Era vicino giusto un paio di isolati, ma tenevo conto di ogni variazione numerica. 226 passi di oggi contro i 221 di ieri e i 212 di ieri l'altro. Lo interpretavo come un segno. Dio. C'entrava lui. Alessandro Galano è giornalista, docente e responsabile eventi per la libreria Ubic di Foggia e cura la comunicazione di Leggo Quindi Sono, le giovani parole, premio all'editoria indipendente. È tra i fondatori della testata Foggia Città Aperta e collabora con l'edicola del Sud. Scrive di libri per la rivista letteraria Satisfaction. Ha esordito nel 2021 con il romanzo L'uomo che vendette il mondo, edito da Scatole Parlanti, tra l'altro ospite anche della rassegna Pagine d'Autore, con il quale ha vinto il contropremio Carver 2022 ed è stato premiato il 19 maggio 2023 al Salone Internazionale del Libro di Torino. Con il racconto La parte Ima ha vinto invece la terza edizione del premio Italo della rivista Risme. Scuola di Santi è il suo nuovo libro, edito da Le Flanner, ed è nella classifica di qualità dell'indiscreto come uno dei libri migliori dell'anno, del 2024. E noi non possiamo essere felici per questa meravigliosa notizia. Scuola di Santi è uno scrigno prezioso di dieci racconti originali e mai scontati come lo è del resto la scrittura di Alessandro Galano, coraggioso fin dalla scelta del titolo. Scuola di Santi è il primo racconto che apre il via a tutta quanta poi la raccolta. Tutto si potrebbe presagire, anche il nulla delle nostre vite. Scuola di Santi o meglio di vite spezzate, lacerate, ricucite dal dolore o strappate via da un tempo tirano, da un amore violento o proibito. Alessandro Galano è arguto e diretto nella scrittura e sa fare entrare il lettore nelle parole. Anzi io dico che lo sa scombustolare al punto giusto perché ti fa fermare, ti fa riflettere ma soprattutto ti mette in discussione. Allora cosa cercano i personaggi di questi racconti? La risposta da dare non è semplice perché già dal primo racconto è un continuo andare in ricerca, interrogarsi sulle paure, sulle incertezze che appartengono all'uomo comune. Sicuramente possiamo chiederci per colpa di chi o per che cosa una persona cresce con le sue paure, con le sue incertezze e ancora che cosa può diventare l'uomo nel suo percorso di vita con tutto questo bagaglio. C'è sempre un perché nei nostri comportamenti e allora Alessandro Galano ce li descrive e ce li presenta uno ad uno. Scava, scava con la sua prosa curata e a tratti anche enigmatica e descrive perfettamente le situazioni e anche i personaggi. Il libro poi è arricchito da una favolosa playlist, basta inquadrare il QR code e mettersi in ascolto. E anche la scelta dei brani è molto suggestiva. Un monito certamente per andare oltre, per vivere meglio la nostra vita e credere nel più grande miracolo esistente, l'uomo con tutte le sue imperfezioni. Allora leggere Alessandro Galano significa affrontare anche una bella sfida per percepire l'oltre, è il senso più recondito della storia universale e della fragilità umana. E ognuno dopo la lettura di Scuola di Santi potrà trarre le proprie riflessioni. Allora non mi resta che augurarvi buona lettura con Scuola di Santi di Alessandro Galano. Se volete seguitemi sul blog www.pagineedautore.it oppure mi trovate su Facebook o Instagram. Buona lettura! Grazie a tutti!